Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione I GVOLT sono sicuri, affidabili ed economici E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Qui è Giovispo che vi parla, benvenuti nello Squad 3 Hybrid Una serie che vi sto portando su questo canale e che spero continui a piacervi nel corso del tempo Perché è una serie che si basa su delle, diciamo, regole Ci vogliono tre giocatori chiavi di cui almeno devono esserci, diciamo così, due campionati Quindi se abbiamo uno Serie A possiamo averne un altro Serie A Però l'altro dovrà essere Ligan, MLS, Liganosa eccetera 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 Ed è una regola semplicissima E io attorno a questi tre giocatori chiave ci costruirò una squadra Che poi, ovviamente, vi potrei o meno consigliare e vi potrei dire cosa sfruttare o meno E per questo video vorrei che raggiungessimo un bel numero di mi piace Scegliete voi quante mi piace Commentate qui sotto con altri tre giocatori chiave che vorreste vedere nel prossimo episodio Iscrivetevi al canale e condividete Ragazzi, mi raccomando E i tre giocatori che ho scelto per questa serie, per questo episodio più che altro Sono Ibraioce, Gioacanselo e Chiellini Sono frutto di un commento lasciato nello scorso video E chiaramente ho avuto un numero di mi piace, non so, 5, non lo so ragazzi, non mi ricordo Allora, il modulo che ho scelto Ragazzi, è la seconda volta che registro, quindi so già il modulo che devo scegliere E' il 4, 5, 1 Quello con i trequartisti Il centrocampista centrale esterno e la difesa a 4 Ovviamente in difesa mettiamo Chiellini, Gioacanselo In attacco mettiamo Ibra E possiamo mettere tipo un Dos Santos qui come trequartista Anche se comunque non è proprio così bello da vedere perché le statistiche fanno abbastanza gagare Ma vi consiglierei a questo punto di mettere lui, il fratello da 77 Sono due fratelli 77 di rating Qua possiamo mettere Alessandrini nella sua versione special, ragazzi, Alessandrini Oppure anche Vela, se avete sbloccato Vela Vediamo un po' se abbiamo anche mettendo Vela un 9 d'intesa No, purtroppo no Anzi sì, assolutamente sì Possiamo mettere un Vela 87 Che potrà essere forse più interessante di Alessandrini Però quale volta in cui ho incontrato Alessandrini contro E' stato sempre un po' fastidioso Un po' punzecchiava Quindi io a questo punto vi consiglio di metterci Alessandrini, ragazzi Poi ovviamente Al posto di Dos Santos ci mettete un trequartista A vostra scelta E come ben saprete I trequartisti, no, proprio tutti i giocatori che entrano nella panchina hanno un C Quindi non ricevono un boost negativo Anzi un depontenziamento quando entrano dalla panchina La fascia sinistra Anzi la zona sinistra, centrosinistra Possiamo farla a nostro piacimento Io ad esempio potrei metterci Tipo, sto pensando a Goats Flashback Perché non tanto lo chiedono Non è fortissimo Però ragazzi Se la cavicchia dai Se la cavicchia qui possiamo mettere un Royce Ad esempio Royce esterno Con 85 di rating Abbiamo anche la versione 89 Che è 89 appunto Ed è esterno E qua possiamo mettere Tranquilamente Anche un Alexandro Se mettiamo un'altra difesa Però Secondo me no Dai cambiamo Mettiamo Un Schultz E ho trovato Nei pick Che Non ho selezionato Non ho in squadra Cioè l'ho trovato Ma non l'ho preso praticamente Qua possiamo mettere un Emre Chan Che fa intesa con Goats E con Chiellini Qua un Ta Ci sta Secondo me Se si vuole muovere Magari Ta E importa Importa Sinceramente Trap Non mi ha convinto più di tanto Quindi io metterei Un Neuer O Neuer Neuer Scusate Non lo dico Il portiere tedesco Del Bayer Di Monaco Allora la difesa secondo me È abbastanza solida ovviamente Poi potrete mettere Tipo Chiellini 90 Chiellini Blablabla Tutte le versioni di Chiellini Così come Cancelo 89 Come Neuer La versione 91 Che è appena uscita Ta Già il Toz Schultz Già il Toz Ma tipo a posto di Schultz Potrete mettere Un altro terzino A vostra scelta Se non vi piace Però ragazzi Questo Schultz Non è male Anzi Per quelle statistiche È molto interessante Il prezzo Non lo ricordo Vediamo Se lo vediamo insieme Attualmente Si aggira Sui 141.000 Crediti Cioè non è nemmeno Tantissimo Ragazzi Per essere Un terzino Di tutto rispetto Con un 90 Di passaggio Cazzo Un 70 di tiro Niente male Royce Ovviamente Possiamo mettere Un'altra versione Possiamo anche Togliere Royce E togliere anche lui E mettere Ti possiamo mettere Anche qui Di Bala Di Bala Da Glass Costa No? Dobbiamo fare così Anche tranquillamente Di Bala Lo mettiamo qui La versione Questa Va bene Da Glass Costa Nella sua Ultima versione Se ci va Tipo Questa 89 Ci sta E ci sta Anche così Ragazzi 99 di intesa Perché tutti Hanno 9 Ovviamente Poi Flashback Di Bainovic Sicuramente Avrà 10 Tipo E altri Avranno lo stesso 10 Poi mettete Magari L'allenatore Dalla serie A Oppure Dalla BUNS Avrete 100 Di intesa Tranquillamente Proprio Easy Sì Ovviamente A posto Di dos Santos Ci mettere Un altro Giocatore Da far Subentrare Comunque La squadra Tutto sommato Così come L'ho fatta Ragazzi Non è male Costa tanto 1.600.000 Ht Ma ci sono Giocatori Che si possono Ottenere Soltanto Tramite Sbc Ovvero Ibrahimovic Passate Sbc Ovvero Ibrahimovic E quindi Alessandrini Si può Tenere Sempre Perché Quelli Sono Sfide Sbc Infinite Diciamo Che durano Per sempre Fino alla fine Di foot Anche dopo La fine Di foot Cioè Nel senso Fino a Quando Chiuderanno I server Degli E sport Del foot 19 Appunto E ragazzi Ditemi Cosa ne pensate Di questa squadra Se ho fatto Una buona Ibrida Secondo voi Lasciando un commento Qui sotto Qui sotto Ragazzi Iscrivetevi al canale Commentate Con un altro commento Su I prossimi Tre giocatori Che vorreste Vedere In questa In questa serie Squad 3 Hybrid Condividete E qui Giovispo Vi saluta E vi rivedete Ciao 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 Ciao